I business model per la sostenibilità sono un modo per dare concretezza al cambiamento strategico che l'agenda 2030 sta richiedendo alle imprese. C'è un commitment molto forte dichiarato da parte di una componente significativa delle imprese, i tre quarti di quelle aderenti al global compact per esempio in questa direzione, però è fondamentale andare a capire come stanno davvero cambiando i modelli di business in questa prospettiva e come nel cambiamento dei modelli di business si riesce a trovare degli spazi ma anche l'opportunità di valorizzare con risultati concreti, misurabili, accountable ciò che si sta facendo.